E salve a tutti ragazzi, io sono Doublemaster, come promesso siamo arrivati qui con Naruto E iniziamo intanto Intanto iniziamo a fare il culo all'uomo con la maschera Che tanto, se già lo conoscerete, vabbè, qui è sempre una cosa, solo che è un po' diverso Qui vive un uomo che dimentica di diventare il leader di village, l'Hokage L'uomo è Naruto Uzumaki In suo corpo è stato un uomo, un uomo che ha avuto un uomo, un uomo che ha avuto un uomo che ha avuto un uomo Ma il forte voglia che era nato con lui ha permesso di farlo di crescita Ma c'è un uomo che ha avuto un uomo nel mondo del ninja Un'organizzazione known as the Akatsuki ha set out to collect the Nine-Tailed Beasts Including the Nine-Tails And declared war on the ninja world Releasing the flames of a massive conflict Once they were ignited, the flames continued to burn on and on But Naruto Uzumaki just kept staring straight ahead Having forged new bombs, he kept his eyes fixed on the future and let loose a roar That roar grew stronger and spread And as if they were echoes, his many allies leapt into action Naruto 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 ninja Naruto Naruto 눈 roast Roars from the splitting earth herald the end As this battle to save the ninja world enters its final stage The ultimate deathmatch begins The world no longer needs hope, a future or any famous heroes When this reality ends, all that will remain is a single endless dream I had a dad, a mom, an old man sage Kids look up to heroes So I'm gonna keep charging ahead without losing my way I'm gonna become the best Tokage there's ever been That's my dream you idiot Funny The power i need to take the kill I'm gonna kill you I'm gonna kill you I'm gonna kill you I'm gonna kill you LOL I'm gonna kill you I'm gonna kill you I'm gonna kill you What does that sound? What do you mean? si è liberato come si sa l'alba non c'è l'alba non c'è l'alba non c'è l'alba ok, non c'è l'alba è stato un po' di più loll, è passato Questa è un'ipotesi, ma... Cosa sta succedendo a questa masca? Potrebbe essere... Cioè, non ci metto un cazzo uccidele Tobi, che poi ho vito prodettare. Cioè, beastbomb! Tu è troppo tardi. Tu stai spostando il tuo tempo. Implosibile! Non c'è dove andare ora, Tobi! Ho, ho capito. Ma attacca non è un'erase quella shadow clone. È stato comodo. Damm, Kakashi. Ha pensato che siamo collegati al stesso spazio. Questo è tutto! Chi è? Chi è? Chi è? Oh, bitto. Chi è? Chi è? O'BITO... Ok, dopo questa introduzione alla Naruto, direi che dal prossimo si inizia a fare sul serio. E noi ci vediamo al prossimo video in cui andremo a vedere Kakashi da ragazzino. E salve a tutti ragazzi, io sono SuperMaster e oggi siamo qui a vedere che ho visto i Kakashi dei ragazzini, cosa facevano, quanto erano bravi. Cioè, prima volta, tu... tu eri un ero. No, 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 no. E in centro, erano tre ragazzini, ragazzini. E anche loro erano ninja, imbriati in questa terribile guerra, mettendo loro le loro viste sulla linea. yeah how are you always so late ninja have rules you need to stick to the plan a good ninja sticks to the rules and does everything by the book rules doing things by the book that's all you ever talk about don't you have any compassion any ninja that breaks the rules sullies their name Tu puoi almeno capire questo, certo? Ok, ok, tu due. Dessere una resta. Siamo nella stessa squadra, no? Rin, sei troppo forte su Obito. Il giorno di oggi è molto importante per noi. Sì, è vero. Eh? Cosa succede? Pfff... Siamo parleremo di via il nostro destino. Siamo arrivati a fare un'unità di Kakashi. Come oggi, Kakashi è diventata una Jonin, come io. Siamo diventati due uniti, ledati da Kakashi e io, per dare il migliori possibilità di successo. Ci siamo freddo dalla grande manpower che ha visto in la Villagia di Hidden Leaf. Ricordatevi. In realtà, Obito... Ricordatevi il nostro parlamento di dare Kakashi un presento? ... ... ... ...sensei anche... ...l'ho dato un'unico custom made kunai, proprio come quello che ho portato. Cosa per te, Obito? Scusate, ho scoperto. Cosa? Beh, non stavo aspettando qualcosa da te, comunque. Probabilmente sarebbe solo un pezzo di junk. Un'utilizante cosa così sarebbe solo un'ecceso. Hey! Oh, come on, non stai combattendo! Ora, mi racconta la missione. Ci sono tutti capiti che la terra di Earth ha lanciato un'invasione contro la vicenda in grado, certo? Sì, sono arrivati molto velocemente. È solo un paio di tempo prima che si riusciano a la terra di Fire. Per questo è quello che dovremmo stoppare così presto possibile. In questo modo, nostra missione questa volta è di infiltrare territori enemy, e riusciano il Kanabe Bridge, che è parte del loro spettacolo. Sì. 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 Sì... Ahhhh, che c'è l'effetto, non è vero. No Ah, ma non è un po' di farlo, ma non è un po' di farlo, ma non è un po' di farlo. Non è un po' di farlo, ma non è un po' di farlo. 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 Non è un po' di farlo.